Ciao, sono Matteo Lavezzini e ti do il benvenuto in questo nuovo video. Prima di iniziare con l'argomento di oggi, per chi non mi conoscesse, vorrei fare una piccola presentazione su chi sono e cosa faccio. Sono il titolare di Lavezzini Fly, il mio negozio specializzato in pesca a mosca e abbigliamento per l'outdoor. Qui potrete trovare attrezzature, materiali da costruzione, abbigliamento, sia tecnico che per il tempo libero e ovviamente tutte le mie mosche artificiali costruite interamente personalmente da me. Abbiamo sia il negozio fisico sia l'online. Il negozio da cui vi sto parlando si trova a Bussolengo, Verona e potete raggiungerlo tramite Google Maps e sempre scrivendomi su WhatsApp per prendere l'appuntamento. Mentre il sito web è lavezzinifly.it e trovate il link in descrizione qui sotto. Sono anche guida di pesca e vedete tutte le mie proposte nella sezione experience sempre del sito. Ma ora iniziamo subito con il video di oggi. Ragazzi eccoci. Allora oggi prendo spunto da un contenuto che avevo già fatto in una storia qualche settimana fa e vi faccio vedere come ho riallestito il negozio per il 2025. Allora guarda partiamo da angolo, anzi partiamo così. Quindi tutte le tools, le attrezzature che servono. Poi tutti i code finali, leader, tippet eccetera. Tutta la parte abbegliamento, water, jack, giubbini, felpe. Sì, facendolo l'incontrare è un po' complicato però si può fare. Tutte le nuove magliette cric, le bonito, azzurra e aloe. Dopo di qua abbiamo tutte le mosche, ninfe, secche e di là ci sono gli streamer. Eccoli lì. Poi tutto sistemato, vetrina con morsetti, mulinelli, occhiali e i vari gadget, i vari souvenir diciamo. Gadget, souvenir dei viaggi. Poi abbiamo tutti i materiali divisi per tutti sintetici, tutti dubbing, 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 dubbing sintetici. Tutti ami, ami, ami di ogni tipo, tutti insieme, tutte palline, occhi, tutto quanto, anche sintetici sopra e di lato. Zona canne e per finire tutta la parte naturale con tutti i colli, fagiano, cdc, marabù, tutto il piume per streamer, zonker, bucktail, eccetera. E quindi vi ho fatto anche una panoramica su come ho riallestito diciamo il negozio 2025 per la prossima stagione. Ciao, là siamo su una flat, guarda, trigger fish. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Lascia un commento qui sotto se hai domande o idee su altri argomenti. Grazie per averci seguito, iscriviti al canale, attiva le notifiche e noi ci vediamo al prossimo video.